La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione che determina condizioni di diffusa stabilità con temperature al di sopra della media stagionale. Nel corso di questo fine settimana però la situazione tenderà a cambiare a causa del passaggio di un fronte freddo che nella giornata di sabato scivolerà lungo l'Adriatico, interessando molto marginalmente la nostra regione. Domenica l'alta pressione subirà un più vistoso cedimento consentendo l'inserimento di una depressione che ci interesserà nei primi giorni della prossima settimana, dunque almeno per qualche giorno ritorneremo in condizioni meteo più simili alla stagione in corso ma senza alcun eccesso di freddo. Sabato 12 febbraio cielo irregolarmente nuvoloso ovunque ma senza il rischio di precipitazioni, temperature in lieve diminuzione, venti da deboli a moderati da nord-est e mare poco mosso. Domenica 13 condizioni di diffusa nuvolosità con possibilità di locali e brevi piovaschi più probabili nelle aree a ridosso dei rilievi, temperature senza particolari variazioni, venti deboli meridionali e mare da poco mosso a mosso. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione verrà demolita grazie all'affondo di una circolazione depressionaria che dal Golfo Ligure si sposterà verso sud-est e interesserà la nostra regione tra martedì 15 e mercoledì 16, determinando precipitazioni più diffuse in un contesto termico però non freddo. A seguire ritornerà il bel tempo con temperature molto miti. Maggiori dettagli sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento.